Partirei dal titolo della relazione, rialimentazione postchirurgica. La prima domanda è, prima si alimentavano? E se sì, in che modo si alimentavano? Pazienti malnutriti, pazienti obesi, pazienti sarcopenici? La mia relazione è nell'ambito di varie esperienze in nutrizione clinica ed è questo il concetto fondamentale, credo, anche alla base dell'incontro di ieri e di oggi. Cioè mettere insieme diverse professionalità per cercare di individuare quali sono le barriere del nostro lavoro quotidiano e quali possono essere i fattori per abilitare il superamento di queste barriere. Perché poi i concetti che sono legati alla chirurgia e alla nutrizione sono concetti abbastanza noti e per alcuni aspetti semplici. È normale che l'apporto nutrizionale nel paziente chirurgico è alterato, non è normale. Che questo apporto alterato nutrizionale abbia degli effetti sugli outcome clinici è altrettanto banale e quindi in termini di morbidità, di mortalità e di costi sia sociali, quindi costi indiretti, ma anche di costi diretti per le strutture ospedaliere sappiamo che è appurato e accaduto anche in letteratura. La malnutrizione, cioè questo aspetto di pazienti che arrivano al tavolo operatorio e diventano acuti ma sono pazienti cronici magari da anni, la maggior parte dei pazienti colorettali ospedalizzati hanno polipatologie, prendono più di 5 farmaci, sono sopra i 75 anni, hanno una serie di comorbidità. Da cosa è causata la malnutrizione o da un alterato apporto nutrizionale? E vi faccio riflettere sull'argomento del paziente obeso grave, quindi patologico, nel quale troviamo comunque deficienze nutrizionali. Ci sono articoli sulle deficienze dei micronutrienti negli obesi che impongono una riflessione anche su questa tipologia di pazienti, come spesso accade gli estremi anche in una scienza come la medicina arrivano a toccarsi. E le alterazioni metaboliche causate dalle patologie sono simili nel paziente traumatizzato, nel paziente ustionato, nel paziente chirurgico, così come nel paziente obeso, perché il paziente obeso, ovviamente lo dico a voi che credo non ci siano chirurghi, quindi siete molto più avanti rispetto alla nostra categoria anche nelle conoscenze metaboliche, la loro SIRS, chiamiamola così cronica, è guidata dalla sindrome metabolica. Quindi è il momento di affrontare e di parlare di un nuovo paradigma sul ruolo della nutrizione. Quindi attualmente qual è il punto di vista? Questo è un grafico di un lavoro di Cusk del 2003, un po' datato ma importante perché metteva in correlazione le complicazioni con i livelli di albumina sierica nei pazienti chirurgici, gastrointestinali differenziati, fa gastrointestinale superiore, colon e pancreas. Il grafico è semplice, complicanze da una parte, è stato nutrizionale, è ovvio che più il paziente è ben nutrito più la curva decresce, ma l'obiettivo qual è? L'obiettivo è che la curva sia più bassa possibile in partenza e le cattive percezioni che avevamo e che abbiamo ancora oggi sono primo che ciò che serve sono calorie e proteine, la seconda è che l'intervento nutrizionale non abbia alcun beneficio quando lo stato nutrizionale del paziente è buono. E questo è un altro errore fondamentale perché quella curva di partenza vale per il malnutrito ma vale anche per il paziente ben nutrito. E soprattutto nel punto interrogativo in alto in rosso, paziente obeso, paziente sarcopenico, paziente malnutrito, spesso è lo stesso paziente, perché ci sono TAC della coscia di pazienti obesi nelle quali si vede chiaramente la sarcopenia e sono pazienti nei quali c'è un difetto di micronutrienti che li fa ritenere pazienti malnutriti. E quindi questa rialimentazione in realtà dove comincia e dove finisce? Comincia sicuramente prima dell'arrivo in ospedale, continua durante l'adeggenza nel perioperatorio e ovviamente nella fase post-operatoria nel ritorno a domicilio. Ma su che categoria di pazienti ci muoviamo? Quali sono i pazienti che finiscono poi nei reparti per acuti? Sono pazienti colorettali, sì, con una prevalenza di malnutrizione negli ospedalizzati tra il 40 e il 60%. Nei pazienti obesi il rischio, io parlo di colorettale perché è il core della mia attività operatoria, nel paziente obeso il rischio aumenta del 30% per ogni 5 unità di BMI. Questo è un dato più vero nel maschio, meno nella donna, però è un dato concreto. Quindi torniamo di nuovo al concetto di avere il reparto, magari in un letto un paziente che pesa 45 kg ha un BMI 17 ed ha un cancro del colon retto perforato, dall'altra parte un obeso, magari più giovane, anche lui colorettale. Ma non cambiamo atteggiamento immunonutrizionale e neanche atteggiamento di valutazione dello stato nutrizionale. E quindi cerchiamo di guardare in maniera diversa ciò che accade a livello metabolico e poniamo la nostra attenzione sul ruolo dell'arginina che per quanto sia un aminoacido non essenziale nell'adulto, lo è nel bambino, è uno, credo, di pochi aminoacidi che sia valso due premi nobile, uno a Krebs e uno a, credo, Ignarro, che è tra l'altro italiano. Allora, l'arginina ha una sua ridotta disponibilità nel paziente traumatizzato e chirurgico ed essendo l'unico substrato dell'ossido nitrico sintesi indotta, ha un effetto a livello microcircolatorio. Ha un effetto sull'ossigenazione tessutale, riduce la funzione dei linfociti T e vedremo poi, c'è un articolo dell'Università di Istanbul sulle sottopopolazioni dei linfociti T nei pazienti immunonutriti, normonutriti e non nutriti prima dell'intervento e c'è una riduzione di deposizione del collagene nelle ferite. Tutto questo per effetto è un'app regolazione dell'arginasi. Qual è il riflesso di ciò nell'attività clinica? Gli outcome, paziente scioccato, ischemico, la necrosi, le ferite non chiudono, le anastomosi si aprono, le infezioni. Le ferite non chiudono, le anastomosi si aprono perché? Per quello che viene chiamato il paradosso dell'arginina, cioè l'effetto della supplementazione orale di arginina nonostante le sue concentrazioni intracellulari dimostrerebbero a livello biochimico l'inefficacia sull'ossido nitrico sempre. E allora come si traduce questa nostra percezione sull'arginina nella nostra attività? Come possiamo migliorare se è l'arginina che migliora gli outcome clinici? Ci sono due strumenti di ricerca che sono quello genetico e quello farmacologico, cioè agire sull'aumento dell'attività dell'arginasi o a livello farmacologico bloccandola. Abbiamo poi invece la soluzione più banale e più semplice che è quella della supplementazione orale. Cioè ristabilire i livelli attraverso la somministrazione orale dà dei risultati. Il problema è che parliamo di un'estesa esperienza clinica. Allora il concetto di avere un trattamento efficace perché diventi gold standard in termini temporali è 17 anni circa. Credo che sia un tempo eccessivo per accettare anche a livello di attività quotidiana una realtà acclarata. Ma qual è il concetto dell'argina? Lavora da sola nella sua attività metabolica? In effetti no, perché l'arginina, abbiamo detto, non è un aminoacido essenziale perché viene comunque segreto nel ciclo dell'urea. Il suo precursore è la glutamina e la citrullina che poi a sua volta è anche un prodotto del metabolismo dell'arginina che ha efficacia sull'ossido nitrico. L'arginina in associazione con i grassi omega 3 e con gli acidi nucleici ha effetto sulla deposizione del collagene, sul nutrimento delle cellule di linfociti T e sull'ossido nitrico con effetti clinici. I due rettangoli in alto e in basso sono due spunti. Uno sulla dimetilarginina simmetrica che è sconosciuta la maggior parte dei chirurghi, molto più nelle corde di cardiologi e diabetologi. C'è un articolo del 2014 da Taipei di Su che dimostra come sia correlato il livello di dimetilarginina simmetrica all'insulino resistenza. Torniamo ai concetti che sono alla base del non lasciare a digiuno il paziente ma di nutrirlo anche prima dell'intervento. Mentre il rettangolo in basso è solo uno spunto per ragionare su quali ulteriori supplementazioni possono essere utili nel paziente sarcopenico. C'è la leucina e le proteine della soia che sono degli analoghi delle proteine del sero di latte sulle quali comunque ci sono prodotti efficaci e che sicuramente conoscete anche meglio di me. Quindi cosa siamo in grado di trattenere, di imparare da questo rapido discorso sull'arginina? Che la supplementazione dell'arginina con i grassi omega 3 e polinsaturi e nucleotidi sembra dare lo giusto apporto nutrizionale nel paziente chirurgico solitamente nel preoperatorio si può continuare con una rialimentazione precoce per via interale è un aminoacido condizionalmente essenziale l'avevamo detto che diventa che ha un deficit durante l'insulto fisico da solo non basta e i suoi effetti dipendono dalla sua attività metabolica e biologica. Da dove l'abbiamo imparato questo? Questo è un dato di letteratura che per i chirurghi immunocompetenti ma non nel senso stretto della parola cioè competenti in immunonutrizione è una sorta di sacra bibbia è una meta-analisi su 35 trials randomizzati in chirurgia elettiva maggiore la maggior parte sono gastrointestinali sono stati valutati come outcome primario e secondario le infezioni, le complicanze infettive e la degenza post-operatoria con una riduzione significativa parliamo del 41% sulle infezioni e del 2,4% in termini di giorni nel post-operatorio ma soprattutto parliamo di dati che interessano un chirurgo nello specifico non avere un'anastomosi che ha una degenza significa ricoverare un paziente e di metterlo in quinta giornata una degenza significa 25 giorni, un reintervento, la terapia intensiva, le possibili complicanze fino alla mortalità. ci sono articoli che dimostrano come la supplementazione di arginina sui flap di muscolo retto dei ratti supplementati con arginina o con fisiologica c'è una differenza di circa il doppio nella vitalità del flap questo significa che a livello semplicemente di riorazione tessutale c'è un effetto vero e proprio. i costi i costi sono un aspetto relativo i veri costi sono quelli delle complicanze e dell'abbattimento delle complicanze non credo che possano essere mai i costi basati sul conto grezzo del costo di un presidio o di un prodotto e quindi tutta la storia si risolverebbe nell'associazione fra chirurgia quello di cui parlavamo prima nutrizione e concetti di riabilitazione in realtà abbiamo fatto dei passi avanti e la chirurgia è diventata chirurgia mini-invasiva quindi l'utilizzo della laparoscopia ormai del robot quindi di usare quanto più possibile basso il livello di insulto al paziente anche in termini di cicatrici la nutrizione diventa immunonutrizione cioè diventa un concetto non solo di preparazione del paziente ma come ho citato prima nel lavoro turco anche di prognosi perché la variazione delle sottopopolazioni dei linfociti T infiltranti il tumore nel cancro del colon ha dimostrato una correlazione con il grado di immunonutrienti utilizzati nel preoperatorio e la riabilitazione intesa come alimentazione precoce come mobilizzazione precoce come scarso utilizzo di presidi come drenaggi, sondini, cateteri diventerà preabilitazione cioè preparazione del paziente alla procedura chirurgica non si può arrivare con un paziente che è BMI35 fumatore, cardiopatico, diabetico che ha un polipo trasformato io piuttosto che operarlo dopo una settimana lo opero dopo tre mesi perché sicuramente non mi altera la prognosi ma se lui perde 10 kg sospende il fumo e in più fa una dieta adeguata sicuramente le complicanze saranno più basse e questo è l'obiettivo che vorrei avere cioè quello di abbassare il numero di complicanze l'unione di questi tre cerchi viene poi rappresentata a livello internazionale da associazioni come l'ERAS Enhanced Recovery After Surgery come la Fast Track adesso c'è il Perioperative Programme in Italia il POIS insomma il coordinamento di queste attività quindi questa è la diapositiva che poi conclude la relazione il meglio deve ancora venire probabilmente la nostra attività sia scientifica che quotidiana è ancora in una fase embrionale però gli aspetti positivi che stiamo vedendo possono essere lo spunto per migliorare ultimamente per tutta la bibliografia definitiva e qualsiasi tipo di comunicazione sono a disposizione di tutti quanti grazie